Buona notizia per le popolazioni terremotate del cratere marchigiano. Sarà prorogata il prossimo 31 maggio, infatti, la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di persistenza dei requisiti per il mantenimento del contributo di autonoma sistemazione. In altre parole, il cosiddetto CAS, per chi si trova ancora in un'abitazione alternativa a quella danneggiata dal sisma del 2016. A fare il punto della situazione è l'assessore regionale, Guido Castelli. La notizia di oggi è che abbiamo condiviso in cabina di coordinamento sisma di differire al 31 maggio il termine per dichiarare se, per coloro che usufruiscono del contributo di autonoma sistemazione o che hanno una SAE, la dichiarazione per l'appunto annuale di persistenza dei requisiti. Perché lo abbiamo fatto? Perché ormai a cinque anni dal sisma è necessario che anche chi percepisce il CAS, anche chi ha la SAE, presenti la domanda di riparazione del bene. Quindi, nell'ambito di quest'azione, che è statistica ma anche sostanziale, abbiamo stabilito che chiunque, senza un motivo adeguato, non presenti la domanda di riparazione della propria casa e usufruisca del CAS, venga evidentemente cancellato dalla lista dei beneficiari. Perché è necessario, sì, da un lato, prestare solidarietà che ha perso la casa, però è anche un obbligo quello di essere solleciti nel presentare, se non vi sia una valida motivazione, la domanda di riparazione. Abbiamo condiviso con le altre regioni questa misura e per l'appunto, visto che la precedente scadenza era il 15 gennaio, abbiamo ritenuto doveroso comunicare che si avrà tempo fino al 31 maggio per presentare la domanda di riparazione e quindi dichiarare che persistono le requisiti per avere il CAS o la SAE, proprio perché ci si è comunque dati da fare per fare in modo che la riparazione della propria casa sia tempestiva e possibile. Come noto, il presupposto per il proseguimento dell'assistenza e il rientro nell'abitazione inagibile una volta ripristinata e, come già disciplinato per il CAS, anche per coloro che usufruiscono delle altre forme di assistenza abitativa alternativa come le SAE, ovvero le casette, la mancata presentazione entro il 30 giugno 2022 della domanda per la ricostruzione comporta necessariamente la cessazione della relativa gratuità della misura assistenziale.